Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per martedì 14 novembre 2023. Tese correnti zonali continueranno ad insistere sui settori centro-settentrionali europei, portando molti impulsi perturbati e forte ventilazione occidentale. Tali correnti saranno alimentate da vaste depressioni ad alte latitudini, entro le quali fluisce aria fredda di derivazione polare. Più a sud, il getto zonale favorisce la distensione lungo i paralleli di fasce anticicloniche e ha garanzia di tempo stabile in area mediterranea, anche se non mancheranno nubi basse e nebbie. Previsioni meteo in area italiana per martedì 14 novembre 2023. Nord. Parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sul comparto alpino, dove si avranno delle nevicate da addossamento sulla cresta di confine. Molte nubi di tipo basso in Liguria, con possibili blande e piovigini sui settori di Levante. Nebbie in Val Padana al mattino e dopo il tramonto, a tratti fitte. Centro. Nubi sparse, con addensamenti più compatti al centro-nord lato tirrenico. Questi addensamenti non è escluso possano dar luogo a delle deboli piovigini sulla Toscana interna. Locali nebbie mattutine nei fondovalle. Schiarite più ampie sui rilievi ed in area adriatica. Sud e isole. Stabile e soleggiato con ampie schiarite, specie sulle isole e dall'estremo sud. Qualche innocuo addensamento pomeridiano di passaggio. Clima molto mite. Temperature massime in aumento su tutte le zone, maggiormente sensibile ove soleggiato. Minime anch'esse in aumento. Valori leggermente superiori alle medie, specie in quota. Ventilazione generalmente moderata tra sud e sud-ovest con locali rinforzi a largo in area tirrenica. Mari da mossi in Adriatico a localmente molto mossi sul tirreno. Tendenza in area italiana per mercoledì 15 novembre 2023 e giovedì 16 novembre 2023. Persistono condizioni anticicloniche, anche se nella giornata di mercoledì assisteremo ad un fugace transito di corpi nuvolosi, che dal nord-est scivoleranno lungo il versante adriatico. In tale frangente non sono da escludersi dei blandi e deboli piovaschi. Formazione di banchi di nebbia nelle valli del nord e localmente del centro nord. Stabile giovedì, anche se non mancheranno i consueti addensamenti di tipo basso sull'alto tirreno e le nebbie nelle valli. Ben soleggiato al sud e sulle isole con clima decisamente mite. Venti da ponente e temperature stazionarie. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate. Grazie a tutti.